Il Comune di Roseto ha bandito una procedura aperta telematica per un concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione della strategia per il miglioramento dell'accoglienza turistica e della viabilità del territorio. Le proposte progettuali sono rivolte a tre interventi messi a concorso dal Comune di Roseto e sono Mercato Coperto, Arena Quattropalme e Pontile. Sì, fondi ministeriali stanziati appunto dal Governo per far dotare i Comuni di progettazioni, di studi di fattibilità per rigenerare in maniera costruttiva il territorio e allora abbiamo colto questa opportunità grazie appunto al professor lo studio Cianni Manica, importante realtà tecnica a livello nazionale per far calare sul territorio un'idea che coniughi turismo, quindi attrattività turistica con rigenerazione urbana. Abbiamo scelto tre aree nevralgiche ma anche strategiche della nostra città il Pontile appunto come luogo pennello sul mare, l'Arena Quattropalme come centro sportivo e aggregativo al centro della città e il Mercato Coperto, incagliato e incastrato all'interno delle vie interne della città come luogo antico del mercato. Questi tre luoghi che con questa progettazione, con questo concorso di idee vedranno una nuova luce che ovviamente oggi noi non sappiamo immaginare, perciò l'abbiamo voluta fare qui in provincia allargata a tutti gli ordini professionali, con il presidente della provincia, con appunto un'apertura che non sia solamente locale ma che sia globale. Il costo stimato per la realizzazione dei tre interventi è pari a 12 milioni di euro mentre per i partecipanti al bando sono previsti tre premi per un totale di quasi 60 mila euro. Credo che sia importante questo strumento perché in passato la rigenerazione urbana prima ha messo i fondi e poi ha detto dotate di progetti. Qui invece ha ribaltato un po' in maniera costruttiva il percorso. Prima fateci vedere cosa volete fare e quanto volete investire. Qui sarà un totale di 12 milioni di euro stimati all'interno dei tre progetti che appunto saranno uno stimolo per noi come amministrazione e ovviamente ci auguriamo che come governo di continuare a investire su questa rigenerazione. Grazie a tutti.